Lamentemente, perché siamo così stupidi da manipolarci da soli? Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo gli appuntamenti di venerdì 17 gennaio 2020 a Torino alle 20.45 con il mio seminario su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo e come sedere chi vuoi. E l'appuntamento di Milano domenica 1 marzo 2020 fu l'immersion dalle 9.30 alle 19 su come sulla autostima e la seduzione in amore e nelle relazioni di vita quotidiana e nel lavoro. Il riferimento per tutti e due le 20 è il 333 15 11 703. E adesso veniamo al tema, la mente mente. Noi spesso ci automanipoliamo da soli, cioè ci mettiamo da soli inconsapevolmente, ma neanche poi tanto, in situazioni negative, in situazioni che ci generano sofferenza, in situazioni che ci generano negatività, in situazioni che ci generano dolore. Ora, perché capita questo? Perché la nostra mente funziona mentendo, tra virgolette, costringendoci spesso a fare delle cose che non vorremmo fare. Vediamo quali sono i meccanismi, perché comprendere quali sono i meccanismi è importante per riuscire a superare i meccanismi stessi e quindi stare decisamente meglio. Allora, il primo meccanismo è che la mente fornisce informazioni che corrispondono alle nostre credenze, alle nostre convinzioni. Diciamo che tutte le informazioni che noi riceviamo, che sono veramente infinite, è come se avessero, venissero filtrate, no? In elettronica si dice filtro passa basso, filtro passa alto, lo direi che fa passare o alcune frequenze o ne fa passare altre. E questo succede anche per quanto riguarda la nostra mente, le nostre credenze fanno passare alcune convinzioni, fanno passare alcune informazioni e altre non le fanno passare. Per cui manco le vediamo, neanche ce ne rendiamo conto. Noi vediamo ciò che crediamo. Vediamo ciò che crediamo. Non crediamo a ciò che vediamo. E questo veramente crea delle ipnosi collettive, delle ipnosi veramente collettive. E questo è un primo fattore. Si dice che quando gli spagnoli invasero le Americhe, nell'Ottocento o Settecento, quando era, Seicento forse, i primi conquistadores spagnoli, non vennero neanche identificati alle navi che stavano arrivando, perché non si sapeva, non si aveva la credenza che potessero esistere, quindi non venivano viste. Quindi noi, se una cosa crediamo che non esista, non la vediamo. Noi siamo ipnotizzati dalle nostre credenze. Se io credo fermamente che esistano gli extraterrestri, ogni luce, ogni volta che alzo lo sguardo al cielo e vedo una luce, sarà la prova provata dell'esistenza degli extraterrestri. Se invece credo fermamente che non esistano gli extraterrestri, possono pure atterrarmi quattro marziani nel giardino, che dirò che non è vero, che erano nani del circo, che sono venuti semplicemente per farmi uno scherzo. Se una persona è convinta che la moglie lo cornifichi, vedrà segni del tradimento in ogni situazione che farà la moglie. Telefona un'amica, ah ecco, questa è una disgraziata ruffiana che starà combinando l'appuntamento con l'amante, per dire. Oppure, ad esempio, che ne so, mia moglie va dal parrucchiere, avrà una tresca, uno sgabuzzino del parrucchiere. Squillo al telefono, rispondo, chiudono dall'altra parte la comunicazione, è l'amante che ha sentito la mia voce e ha chiuso la comunicazione. Quindi, tendo a vedere, diciamo, ad autoconfermarmi le mie credenze. Se invece credo che mia moglie mi sia fedele, possono pure portarmi le prove che mi ha fatto le corna. Dirò che non è vero, che eri tu, che te la volevi fare. E adesso invece mi stai, vuoi seminare zizzagne perché lei è onesta e non c'è stata con te. Insomma, invento tutte le cose, ma questo diventa la mia realtà. Quindi, questo è il momento, è la cosa, diciamo, più forte, che capita spesso. E siamo così stupidi noi da non rendercene conto. E poi c'è un altro meccanismo che la mente spesso confonde causa con effetto. Ad esempio, non so, noi crediamo che se riusciremo ad ottenere qualche cosa, allora saremo felici. E invece no, è esattamente il contrario. Noi saremo felici, se noi riusciamo ad essere felici, riusciremo a conquistare delle cose. E invece noi siamo sempre nella speranza che qualcosa ci possa, ci possa, diciamo, portare a raggiungere questo obiettivo. Invertiamo la causa con effetto. Invertiamo la causa con effetto e ovviamente se invertiamo la causa con effetto, bene, e non riusciamo ad avere nessuna possibilità di raggiungere i risultati che vogliamo raggiungere, perché noi andiamo a lavorare sugli effetti. Ma questo capita anche, noi ce la prendiamo con effetto. È come dire, non con la causa. Quando abbiamo un sintomo di qualcosa, ce la prendiamo col sintomo, non ce la prendiamo con la causa. Una persona è stressata, si pide la pastiglia per eliminare lo stress. Ma non ti rendi conto che sei stressato è perché c'è una causa che ti ha portato ad essere stressato. Quindi vanno sempre identificate le cause, mai gli effetti. Gli effetti sono una conseguenza. Come dire, se uno ha, diciamo, si accende la spia della benzina, della riserva carburante, a nessuno mai verrebbe in mente di prendere un nastro adesivo e chiudere la spia e continuare ad andare, no? Perché lì abbiamo capito che la spia ci sta indicando che dobbiamo andare a fare benzina. Però noi nelle altre situazioni della vita ci comportiamo in questo modo. È come se si accende la spia dello stress e noi ce la prendiamo con lo stress. E sarebbe equivalente a mettere un nastro adesivo sulla spia e riserva carburante e continuare ad andare, poi quando la macchina si ferma, lamentarsi che la macchina sia fermata. Ecco, questo è quello che noi facciamo. Dobbiamo superare questa condizione causa-effetto. Poi, diciamo, c'è un'altra cosa che la nostra mente si basa, diciamo, sugli ancoraggi emozionali. Gli ancoraggi emozionali ci condizionano. Noi, ad esempio, come facciamo? Beh, questo è un qualcosa che viene utilizzato anche nella vendita, no? I venditori di case cosa fanno? Eh beh, ti fanno credere che una casa sia a buon mercato perché prima ti fanno vedere delle catapecche che costano tanto e te lo fanno apposta perché poi così quando ti presentano la tua, quello che ti vogliono vendere, diciamo, tu pensi che sia un qualcosa di vantaggioso. Non, lo stesso vale il discorso nella vendita. Cioè, noi non giudichiamo mai un prezzo basato fino a se stesso, ma lo confrontiamo con altre persone, cioè con altri prezzi, che sono prezzi civetta, diciamo così, che servono per ancorarci qualcosa. Ecco, quindi questo è tutto quello che noi facciamo, per cui siamo travolti dagli ancoraggi emozionali, siamo travolti dagli ancoraggi emozionali che ci fanno fare delle cose che noi non vorremmo fare. Poi un'altra caratteristica della nostra mente è che stima le possibilità, diciamo così, stima le possibilità in modo sbagliato. Ad esempio, lanciando una moneta ho il 50% di probabilità che esca testa e il 50% che esca croce. Ma, se la moneta è stata lanciata 20 volte, ad esempio, ed è uscita, e ogni volta è uscito testa, noi poi dopo crederemo che croce sarà più probabile. Invece ogni volta che faccio un lancio, è, diciamo, ogni volta che faccio un lancio, la probabilità è sempre del 50%. Non è che c'è una memoria di quello che è accaduto prima. Ecco, questo è un qualcosa che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché spesso facciamo, anche nelle relazioni sentimentali, facciamo delle scelte sbagliate, scelte basate sulle emozioni. Cioè le emozioni distorgono completamente la realtà, ad esempio. In questo caso è la speranza della vincita, nell'altro caso potrebbe essere il fatto che siamo innamorati di una persona. Quando siamo innamorati di una persona, non diamo più, non valutiamo più acriticamente come si comporta quella persona, ma le daremo del potenziale, le daremo delle energie, senza che questa persona in realtà abbia questo potenziale, queste energie. Ma noi siamo lì pronti a dare, diciamo così, energia potenziale, anche quando non sarebbe neanche il caso. E questo capita molto frequentemente. Capita molto frequentemente proprio perché non siamo in grado di gestire, diciamo, le situazioni. Quindi ci lasciamo travolgere dalle emozioni. E poi un'altra caratteristica è che tendiamo a giustificare per un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva le azioni sbagliate che facciamo. Ad esempio, sempre nel caso dell'innamoramento, ci innamoriamo della persona sbagliata che ci fa soffrire, eppure se abbiamo interminato dei comportamenti che vanno a favore di questa persona, cerchiamo, diciamo, di giustificare questa persona. Cerchiamo di giustificare questa persona. Anche è una sorta di sindrome da Stoccolma, diciamo così, no? In cui ci innamoriamo del carnefice proprio perché gli abbiamo dato energia. Lo stesso discorso vale nella vendita, ad esempio, no? Quando noi acquistiamo qualcosa che poi non ci dà, non porta i benefici richiesti, la nostra mente, diciamo così, cerca a posteriori di convincerci che l'acquisto che abbiamo fatto è comunque... l'acquisto è giusto. Quindi, di fatto, diventa una sindrome da Stoccolma di acquirente, diciamo così, no? Perché se mettiamo in atto un comportamento, poi cerchiamo in qualche modo di giustificarlo. Ecco, tutti questi meccanismi fanno sì che la nostra mente ci imbrogli, che la nostra mente non ci faccia avere una corretta visione della realtà, ci manipoli, e ci faccia vivere, ad esempio, situazioni di dolore. Quindi noi dobbiamo imparare a venire fuori da queste situazioni per evitare di fare una vita di merda, fondamentalmente, iniziare a fare una vita positiva. Quindi questi meccanismi mentali dobbiamo imparare a controllarli, dobbiamo imparare ad avere sotto controllo la nostra vita, perché altrimenti, se non riusciremo ad avere sotto controllo la nostra vita e le nostre emozioni, ne diventeremo schiavi. E quindi noi dobbiamo imparare a vedere correttamente la realtà. Se iniziamo a vedere correttamente la realtà e non ci riusciamo a fregare dalle emozioni, da quando siamo innamorati di qualcuno o di qualcuna, già questo sarebbe una modalità per poter veramente iniziare a percorrere una strada di felicità e non più una strada di sofferenze e di dolore. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo l'appuntamento di venerdì 17 gennaio 2020, ora è 20.45 a Torino, col mio seminario su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo e delle rifiute, se d'ore chi vuoi. Venerdì 17 gennaio 2020, Torino. E ti ricordo inoltre l'appuntamento di Milano, una full immersion, domenica 1 marzo dalle 9.30 del mattino alle 19 la sera e il riferimento per tutti e due, e il tema sarà l'autostima e la seduzione in amore e nel lavoro. Il riferimento per tutti questi due eventi è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che sul canale Massimo Tremaschi è attivo l'abbonamento, per cui se non puoi partecipare ai seminari perché magari sei lontano, vai sul canale Massimo Tremaschi ed abbonati. Se ti abbonerai è molto semplice, basta andare sulla home page, accanto a tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti abboni e potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!